buongiorno a tutti i carissimi amici ecco siamo usciti adesso dal paesino qua siamo con la simo siamo a bordo della nostra giulietta che ce l'avrei stata il nostro amico ugo perché la macchina eccola qua della banda della magliana stiamo uscendo da otricoli ecco siamo a raduno in quadra davanti davanti simo in quadra davanti vediamo anche ai ragazzi del vespa club ovviamente io ragazzi porto sotto il mio sederino una macchina davvero di un gran successo la famosa giulietta mille tre la dorata il famoso mille tre eccola qua tra sta simon ecco per la stacqua della sta mostrando eccola qua mi raccomando boh muovi piano l'immagine sennò si muove troppo e ovviamente sentite il rombo adesso pezzettino ecco guarda sentite in terza come sale ragazzi è una macchina veramente bella perché non siamo venire con la giulia perché stiamo facendo dei piccoli laurini però il nostro amico ugo ci ha prestato questa bellissima giulietta che io ragazzi mi fa venire un'emozione fantastica a guidare delle auto come questa è vero sembra un sogno avverato sembra un sogno avverato perché sono delle auto che hanno fatto veramente la storia hanno fatto veramente la storia nonostante che oggi le auto sono come gli aerei però le vecchie alfa romeo le vecchie auto storiche hanno sempre il suo fascino molto particolare va bene ci vediamo ai prossimi ritroviamo se faremo qualche saluto dopo vero simon sì ok se benissimo adesso dopo il saluto